Fabbà, ti raffa, ti hanno a sapere, hanno a sapere che ci hanno cacciato il forno, hanno a sapere. No, no, parlo, parlo. No, no, quello dovevano a sapere, sono tre mesi che non si prendono a sapere, ma i bambini. Ma dove andiamo? Maroya. 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 Di me. Ma non ho poco a maravigliare o manico, perché sono a metterlo o manico. Mi sa, ma che ne c'è, non 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 c'è. Maroya. 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 Sotto le pompe. Ma non lo convengo, non lo convengo. Non, non lo convengo. Si è buono. Si è buono. Si è buono. Ma, vai, questo è il figlio. Adesso la mamma, pensa una prima. Ma non ha già prima. Ascoltate, la collega delle carattine, la ha chiamato. Adesso, vado, vado, vado. Adesso, vado, 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 vado. Dicente, non vado. Questa che io ne ho dischizia, stavolta 12. Ci vogliono tracciare. Sanno gianche la miaد Natanzia, c'è un matic? Quato lungo? Ministro? Favori? Voi arrivati? These del bani benghi? Si? Ma non fundamental,essi? 50 50 anni delle case paghiamo tutti i diritti paghiamo e ci vogliamo stare fuori venite venite aspetta